Ok, abbiamo un altro duo, bellissimo, pianistico, Martina Campi e, aspetta, non mi ricordo il nome, non me l'hanno scritto poi. Mario Guarina. Mario? Guarina. Dai, presentati da solo, ti prego, fammi una cosa in casa che è meglio, dai, dici. Dici, come ti intitoli? Mamma mia, sono Mario Guarina. Ok, Mario Guarina, più o meno, vabbè, ok, comunque un Mario che suona, quindi siamo contenti. Martina è una grande performer, poetessa, paroliera, direi che ho letto ultimamente delle tue cose, te l'ho anche scritto privatamente, che mi hanno risolvito parecchio nei momenti di, oh, penso che la poesia serve anche a questo, alla fine, no? anzi, se non serve, c'è una sonorità nella tua scrittura che non è ovvio e scontato, cioè non è tipo solo il cuore e amore. Ciao a tutti, grazie Valentina, delle cose bellissime. No, più bene, le ho lette, più bene. Ringrazio tutti e anche chi ha reso possibile questa bellissima giornata di oggi, arte, condivisione, esperienza e quello di stasera mio e di Mario è il nostro contributo. Sotto l'acqua le ho sognate, disperse come bottiglie. Sotto l'acqua le ho sognate come Gatti Sogni di luce Sogni di luce e di blu Forbici come mucche Forbici come mucche Forbici come mucche Forbici come mucche Distese sui prati Insano Grazie